I talebani hanno conquistato Ghazni a soli 150 chilometri da Kabul. Si tratta del decimo capolugo di provincia caduto nelle loro mani in una settimana. In Afghanistan è sempre più caos e la disgregazione delle forze di sicurezza del paese sotto gli occhi di tutti. Secondo fonti dell'amministrazione Biden, a 30 giorni, massimo 90 è il tempo che servirebbe ai talebani per conquistare Kabul. Una situazione impensabile quando la Casa Bianca annuncia il ritiro completo delle forze militari USA dal paese entro il 31 di agosto, ponendo fine a una guerra durata 20 anni. Grazie per la visione!